E' il miglior girone d'andata della tua carriera questo Alessandro? A livello personale ti posso dire che devo migliorare ancora tanto, quindi le somme si tirano a fine campionato. A cosa rispondi? Il girone d'andata? Io non voglio rispondere perché voglio rispondere a fine campionato. Fermana, partita da non sottovalutare su questo, sei d'accordo? No, non c'è niente da sottovalutare anche perché vengono dati risultati positivi e penso che sia una squadra fastidiosa anche perché le squadre che vengono all'Adriatico danno sempre qualcosa in più, quindi è vietato sottovalutare la gara. Torniamo un attimo ad Ancona, un pareggio che accogli con piacere visto anche il risultato del Perugia o c'è un po' di amaro in bocca? No, per come sono fatto io, per come è andata la partita abbiamo perso due punti per me, quindi insieme al mister adesso cerchiamo di vedere cosa dovevamo fare meglio e di proporre la prossima partita. A proposito, come l'hai ritrovato Zeman al campo? L'hai ritrovato come sempre, è un uomo forte quindi si è ripreso alla grande anche velocemente da quello che gli è successo. Prima cosa, gradoni? Eh sì, per forza. Alessandro, ti faccio la stessa domanda che oramai gira un po' da tempo, ci sono sviluppi sul mercato? Perché un giocatore come Pizzari non può passare inosservato? Io sono concentrato sul pescare a calcio e sul gruppo che abbiamo e quindi diciamo che non ho sentito niente, nessuno mi ha detto niente e sono contento di star qua. Chiudiamo con una battuta simpatica prima di fare gli auguri ai nostri telespettatori. Visto che c'è buon umore, vedevo che consigliavi al team manager Francesco Troiano degli acquisti importanti. Ogni tanto lo vediamo che viene al campo vestito veramente male, quindi cerco di dargli qualche consiglio ogni tanto. Ai nostri telespettatori gli auguri di Alessandro Pizzari. Buon Natale e felice anno nuovo. Ciao! Ciao! Ciao!